La riunione è stata partecipata, si è fatto un confronto chiaro tra i vari capigruppo, si è parlato delle problematiche per cui ci siamo riuniti, l'ordine del giorno era rimandato solo alle lettere di minacce al sindaco, il problema è stato affrontato sotto tre aspetti, sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto politico, sotto l'aspetto istituzionale, ognuno dei partecipanti ha avuto modo di esprimersi, ci siamo lasciati con l'impegno di convocare una nuova riunione dei capigruppo per fine settimana, presumibilmente rispetto agli impegni del sindaco con il quale ci confronteremo e ogni consigliere comunale avrà modo di esprimersi, questo è quanto abbiamo deciso.